segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te devo precisare sulle strategie parliamo devo precisare no dico devo precisare una cosa siccome il diritto di cronaca e all'articolo 21 della costituzione ed è persino più importante di tutto il meccanismo dei processi che parte se non mi domani dal 110 111 significa che il diritto all'informazione è la base della democrazia è importante praticamente quasi come il parlamento il diritto di informazione è chiaro che tu non puoi dire ai giornalisti siccome tu sei libero e qualche volta diciamo la verità ti diverti un po con le intercettazioni non puoi scrivere delle intercettazioni questo è escluso i giornalisti devono poter scrivere delle intercettazioni il punto qual è che siccome i giornalisti rispondono alla legge come tutti gli altri devono essere messi nelle condizioni di esaminare la singola intercettazione assieme a tutte le altre e assieme a tutto il contesto e quindi non possono dire oh bello mio mi dispiace ho scritto che hai parlato male di giovanni toti perché io quella intercettazione avevo non tutte le altre dove per esempio non avere più informazione non meno informazione devono avere tutte le intercettazioni tutte le informazioni non meno informazioni e rispondere delle domande